Benvenuti a Medicina Amica. Oggi il titolo del nostro incontro è affrontare i problemi di alcol. Bene, quindi avete capito l'argomento. Allora, diciamo spesso, spessissimo che la più grande dipendenza che dobbiamo affrontare è quella del cibo, però negli ultimi tempi abbiamo fatto conoscenza con altre dipendenze, ad esempio quella da gioco, da gioco compulsivo. Conosciamo benissimo purtroppo la dipendenza dalle droghe, ma la più storica veramente delle dipendenze è quella dell'alcol, che accompagna un pochino proprio la storia dell'umanità, perché dalla scoperta di arrivare a produrre delle bevande con un tasso alcolico, gli uomini naturalmente ne hanno sempre goduto e abusato insieme. Oggi possiamo dire che questo è un problema ancora attualmente molto molto drammatico, con dei risvolti sociali, familiari, personali veramente pesantissimi. Sappiamo anche che gli alcolisti possono avere dei danni irreparabili alla loro salute, danni che possono andare dal classico danno neurologico a quello psichiatrico, depressioni, ansie, attacchi di panico, danno epatico che potrebbe essere addirittura irreversibile con le cirosi, ma anche danni cardiaci e un rischio decisamente elevato di contrarre una malattia oncologica. Questa sera abbiamo portato in studio un'esperta, che non solo è una brava, bravissima tossicologa, ma anche ha scelto di prestarsi come volto e di essere la fiduciaria di un'associazione di alcolisti anonimi. Quindi avrà un'esperienza non solo professionale ma anche umana molto molto diretta sul tema. La persona che ci condurrà a conoscere bene tutti gli aspetti legati al consumo, all'abuso di alcol che oggi si può manifestare in età addirittura estremamente pericolosa, estremamente precoce, perché nelle statistiche compaiono per la prima volta ragazzini dagli 11 e 15 anni, potrei dire bambini, perché a quell'età è vero si fanno a volte delle marachelle, ma cercare volontariamente la sbornia, la sbronza è sicuramente un fenomeno molto molto allarmante. Ora prima di presentarvi la nostra ospite che viene anche da lontano, un saluto affettuoso alla dottoressa Federica Pomini e una battuta. Ci hai sempre detto Federica che i nostri vicini, i nostri cugini d'oltre Alpe, i francesi, godono di maggiore salute rispetto a noi, soprattutto per quanto attiene la prevenzione delle malattie cardiovascolari e che hai sempre detto forse il segreto sta nel loro consumo moderato di vino rosso. Non lo dico io, lo dicono gli studiosi. Gli studiosi. Cioè il vino rosso siccome contiene il resveratrolo diminuisce l'incidenza diciamo di infarto. Ed è anche un potente antiossidante. È un potente antiossidante. Cioè in moderate dosi. Tanto è vero che però io me lo prendo come integratore e non attraverso il vino rosso e credo che sia veramente ottimo. Bisognerebbe bere un po' troppo vino rosso per avere la dose terapeutica di resveratrolo. È quello che fanno i francesi perché oggi leggendo le statistiche, preparandomi a questa trasmissione, purtroppo le ho dimenticate quindi non le posso dare precisamente così come sono, però risulterebbe che negli ultimi anni, negli ultissimi anni, il trend del fenomeno alcolismo in Italia è in lieve decrescita. Cioè i nostri concittadini stanno bevendo un pochino meno. Ed è un trend, ho detto lieve, è il dato, non è poi così rassicurante, però incoraggiante perché è in costante diminuzione. I francesi invece bevono, hanno problemi al triplo dei nostri. Sono veramente dei consumatori esagerati con problemi veramente drammatici di alcolismo. Bisogna dire che loro hanno dei vini rossi stupendi. Ma questo non giustifica il fenomeno. Eh no, ne bevono troppo. Ne bevono troppo. Allora, termino questa amplissima presentazione dicendovi che resta un problema elevatissimo nelle fasce quelle giovani, dagli 11 e 15 e ovviamente dai 18 e 24. Del resto il fenomeno è sotto i nostri occhi. Questi happy hour, questi aperitivi alcolici, incominciano veramente a essere un serio problema. Perché poi sentiremo se ci si ferma quello o se si prosegue. No, ma poi è un modo di bere smodato, cioè è un modo di bere. Cioè in genere noi siamo abituati a bere a tavola, il bicchiere di vino accompagnato da qualcosa da mangiare. Ma fare, come dicono i giovani, fare l'aperitivo vuol dire, alla moda inglese, bere degli alcolici e superalcolici prima. Certo. E poi il fenomeno veramente oggi di moda è il binge drinking, che vuol dire proprio cercare la sbronza, cercare la sbornia, cercare lo spallo. Bene, è venuto il momento di presentarvi la nostra ospite, che è la dottoressa Valeria Zavan. Buonasera, benvenuta. Buonasera a lei. La dottoressa Valeria, come vi dicevo, è responsabile del CERT Alcologia di Novi Ligure, Dipartimento di Alessandria, e fiduciaria di Alcolisti Anonimi. Ecco, potreste pensare Alcolisti Anonimi, di conseguenza non dovrebbero mostrarsi, ma la dottoressa non è un'alcolista anonima. E ovviamente è una professionista che presta il suo volto. Avremo anche nel corso della serata delle interessanti, sotto certi aspetti, anche drammatiche testimonianze di chi è uscito, con fatica purtroppo sempre, da un problema di dipendenza dell'alcol. Zavan ci dice, dice a tutti, che lei viene dal Veneto. Ah, sì, sì. Ah, è una terra di bevitori fortissimi. Eh sì, penso proprio da una terra, da una regione dove il record è elevato. Perché il fenomeno incomincia in famiglia, incomincia forse come un fenomeno, diciamo, genuino, che per anni si è tollerato nel nostro paese, no? Il bere il classico bicchiere di vino, magari un grappino, un bianchino, a metà mattinata. A metà mattina il bianchino è un po' un'esagerazione. Intanto buonasera a tutti i telespettatori. Sì, è vero, il primo contatto con l'alcol da sempre è in giovanità. Per certi aspetti possiamo dire che è sempre stata una specie di iniziazione con una sostanza psicoattiva. E lui è stato per tutte le generazioni, dai tempi dei tempi fino ad oggi, perché poi l'alcol è la sostanza psicoattiva del mondo occidentale. Come per altre parti del mondo sono altre sostanze. Quella è la nostra sostanza psicoattiva. A cui mi dice che ogni cultura ha la sua sostanza? Naturalmente sì. Quella che costituisce la sostanza per cui ti alteri, ma lo fai anche in una maniera tutto sommato controllata all'interno di una cultura. Quello che sta accadendo e che è la ragione per cui noi che cominciamo ad avere una certa età non ci ritroviamo più con certi modelli, e che i nostri modelli culturali del bere stanno cambiando, anzi sono già cambiati. Come dire, io ho 50 anni, attorno alla nostra età ci accorgiamo di cose che sono di fatto già avvenute. E una cosa che sicuramente è avvenuta è una modificazione dei modelli del bere. Cioè quello che vediamo noi, nei ragazzi, nei giovani, che poi in realtà tanto ragazzi spesso non sono, perché noi parliamo di giovani che in realtà spesso sono dei giovani adulti, non sono neanche più tanto dei bambini, sono dei modelli di bere che venivano chiamati modelli nordici del bere. Perché il sud d'Europa e il nord d'Europa ha sempre avuto, fino a un 30-40 anni fa, due modi abbastanza differenti di bere, che però con l'effetto della globalizzazione si stanno mischiando. E in questo senso il bere tradizionale del sud d'Europa, che è Italia, Francia, Spagna, Grecia, del bere a pasto, in maniera sociale, anche con delle valenze di tipo culturale di un certo tipo, sta lasciando il passo a un modello nordico che è molto più fatto su intossicazione, su gruppo di pari e soprattutto localizzato in certi momenti della settimana, soprattutto il weekend. È un modello qui... Questo è molto anglosassone, è vero. È molto anglosassone. Cioè autocontrollarsi, perché mi dicevano che se ti vedono bere al lavoro una birra, una birretta, sei subito bollato. Ma dal venerdì alla domenica sera... Ma anche dopo lasciarsi andare a birre... Dopo le cinque di sera loro vanno nel pub e bevono, eh? Dobbiamo tener conto che questi due modelli diversi di bere portano a degli esiti differenti, perché noi siamo sempre stati abituati ad avere dei problemi da alcol che si sviluppavano lentamente nel tempo e che alla fine portavano a dei danni soprattutto di tipo organico, fisico, no? Quindi l'idea della cirrosi, di tutta una serie di questioni. Mentre il modo di bere a binge, a intossicazione acuta, tende a dare più problemi di tipo legale, la rissa, l'arresto, piuttosto che... Che sono modelli a cui noi siamo poco abituati, ma in realtà che sono assolutamente presenti e che si stanno mischiando, nel senso che noi stiamo importando il modello mediterraneo al nord, le esportazioni di vino sono molto aumentate verso il nord Europa e viceversa il modello del bere a binge sta entrando nella cultura nostra ed è molto difficile gestirlo proprio per gli esiti differenti che si hanno in questi due tipi di bere, questi due modi di bere. D'altronde dobbiamo anche ricordarci che i problemi di bere ci sono da sempre e sono negli ultimi vent'anni che sta aumentando la sensibilità della popolazione rispetto a questo argomento. È vero, ce ne accorgiamo oggi, dottoressa Zavan, soprattutto poniamo l'attenzione quando avvengono certi disastrosi incidenti stradali, dove la prima causa che si va a ricercare è proprio quella se il guidatore era uno stato alterato. Non c'è dubbio, non che prima gli incidenti non avvenissero, è che semplicemente non c'era quella sensibilità. Quella tensione, quella sensibilità che oggi invece abbiamo. Che invece c'è, e giustamente c'è, perché qua non è questione di bere tanto, bere poco, ma non creare danni a terzi, no? Questa è una delle ragioni, non creare danni a terzi per i tuoi comportamenti personali. Ognuno è libero di fare quello che vuole, non è libero di danneggiare gli altri. E perciò in questo senso i controlli stanno aumentando, stanno aumentando anche perché le politiche europee ce lo stanno chiedendo. La legge è molto severa oggi in fatto di consumo di alcol quando ti metti poi alla guida. Assolutamente, è estremamente severa. È giustamente severa e da due anni, due o tre anni, adesso non ricordo più, ci sono state delle modifiche ulteriori per cui per esempio i neopatentati hanno l'obbligo di avere zero di alcolemia quando guidano, mentre per le patenti B in genere c'è lo 0,5 per le persone adulte. Mentre neopatentati, intendendo coloro che hanno la patente da meno di tre anni, camionisti, giustamente, tutti coloro che guidano dei mezzi con patente superiore hanno l'obbligo di guidare a tasso zero di alcol, che è l'unico che garantisce che non tanto che non accadano degli incidenti, perché gli incidenti accadono comunque, ma che quella parte evitabile che ci può essere nell'incidente stesso venga di fatto evitata. Ci puoi spiegare, dottoressa, che cosa succede quando noi beviamo moderatamente o invece perdiamo il controllo e beviamo tanto? Quali sono questi effetti immediati, acuti dell'alcol? Beh, intanto bisognerebbe mettersi d'accordo su che cosa vuol dire un bere moderato. Eh sì, allora, lo so che l'ho già detto, l'ho confessato, che ho perso le mie statistiche, ma ricordo benissimo che esiste una netta distinzione tra uomo e donna. Pare che strutturalmente le donne non abbiano la capacità di produrre un enzima che contrasta un po' gli effetti dell'alcol. Quindi le donne si ubriacano più facilmente, in sostanza. I due bicchieri, due bicchieri che moltiplicati in una settimana farebbero 14 bicchieri alla settimana, possono essere invece 21 per gli uomini. E questa sarebbe la soglia, diciamo, la differenza tra chi è bevitore normale e chi invece è alcolista. Sì, molto severo, eh? Anche questo. Sì. Come linea di demarcazione. Cerco di spiegarla un attimo nella logica, no? Queste sono le dosi consigliate al di sopra delle quali la probabilità di avere qualche problema alcol correlato aumenta. Cioè si crea quella che... la dipendenza, in sostanza. Quella che abbiamo anche dal fumo, perché abbiamo dimenticato che un'altra grande dipendenza è quella del fumo. Non proprio, non proprio. Cerco di spiegarmi meglio. La quantità che si abbassa progressivamente nel tempo, peraltro, delle principali agenzie internazionali che vanno dall'OMS, ad alcune agenzie americane, hanno semplicemente trovato che ci sono dei quantitativi di alcol assunti che non sono significativamente correlati a dei danni da alcol, appunto. Noi sappiamo che l'alcol ha delle relazioni con almeno 200 cause di morbilità, che non sono poche, no? Eh no, al contrario. Anche se, per dire, ci sono delle correlazioni persino con il cancro del seno, che uno... Sì, questo l'ho letto, purtroppo. La quantità sotto la quale questo link, questa relazione diventa ininfluente è questa, di un bicchiere a pasto. Questa è la ragione per cui la cosiddetta quantità moderata viene definita in questo. Quindi questo, secondo lei, non secondo lei, mi scusi, secondo gli studi degli esperti, dottoressa, è la quantità che ci, se non garantisce, perlomeno ci preserva dall'ammalarci fisicamente? Sostanzialmente. Sostanzialmente sì. Non solo fisicamente, anche di non avere tutta una serie di altri problemi, tipo appunto incidenti stradali piuttosto che. Dobbiamo però leggere questa cosa non sul piano individuale, ma sul piano di popolazione. Questa è una cosa estremamente importante, perché poi la singola persona può avere delle, come dire, può avere delle controindicazioni sue personali di altro genere. Facciamo un esempio. Se una persona assume dei farmaci, no? Che associati all'alcol possono provocare, no? Un aumento dei problemi. Quali sono tendenzialmente queste famiglie di farmaci? Le faccio per esempio l'esempio dei farmaci psicoattivi, dai tranquillanti piuttosto che qualsiasi altro tipo di farmaco. Oppure quando l'alcol influenza le azioni dei farmaci. Una controindicazione relativa, per esempio, sia nell'ipertensione, nel diabete, in varie malattie croniche, in cui è consigliato non bere, perché comunque l'assunzione di alcol può modificare l'andamento dell'altro problema che la persona ha. Le faccio un altro esempio. L'età. L'età può essere una controindicazione al bere certe quantità, anche moderate, di alcol. Per esempio, noi sappiamo che nelle persone anziane le quantità assunte devono essere inferiori perché il metabolismo cambia e perché spesso le persone anziane assumano molte terapie farmacologiche e hanno plurimi danni. Nelle età giovanili, perché l'organismo non ha ancora tutto quel corredo e quelle capacità di gestire, sia da un punto di vista metabolico che psicologico, le sostanze, la quantità di alcol assunta. I ragazzi giovani, soprattutto le ragazzine, rischiano spesso, spesso, insomma, rischiano in caso di una sbronza il coma etilico? E che cos'è un coma etilico? Che cos'è un coma etilico? È uno stato di incoscienza, di alterata coscienza, di mancanza di coscienza di un soggetto che assume alcol. Qual è la quantità? In realtà non è facile definirlo, ci sono delle correlazioni tra la quantità e la risposta del nostro sistema nervoso centrale. Perché dobbiamo ricordarci di una cosa, per quanto noi abbiamo la percezione che l'alcol sia un disinibente, in realtà è un sedativo del sistema nervoso centrale. Quindi quando noi abbiamo inizialmente quella percezione di aumentata capacità di disinibizione, appunto, non è un effetto eccitante dell'alcol, ma l'alcol, essendo un inibitore, blocca le nostre inibizioni. Perciò uno non riesce più a controllare come farebbe normalmente certi blocchi nel modo di correlarsi con gli altri che hanno normalmente. Questo spiegherebbe anche questi eccessi di violenza, a volte, di ira, attacchi di ira. Questa cosa qui dipende anche molto da come sono fatte le persone, perché poi nell'intossicazione da alcol, l'alcol si ingrana col carattere delle persone. Perciò ci sono delle persone che, per esempio, quando bevono tendono a slatentizzare delle componenti di tipo aggressivo. Quindi diventano più aggressivi. Altri che piangono, piagnucolano invece, altri che stanno buoni, buoni. Certo. Ci sono reazioni di tipo molto differente rispetto all'alcol. E perciò in questo senso la quantità che aumenta significa anche aumentare progressivo della sedazione del sistema nervoso centrale, finché uno va in coma. Ho capito, questo è quindi il coma etilico. Ed è anche un rischio però grave per la salute. È un rischio gravissimo per la vita della persona il coma etilico, perché nel coma etilico, in pratica, le persone rispondono agli stimoli e mano a mano che il sistema nervoso centrale viene sedato, questo viene sedato, questo viene sedato in tutte le sue funzioni. Alla fine, il massimo della sedazione è il blocco del centro respiratorio, la persona non respira più, no? E in questo senso il coma... È a rischio di vita, quindi una persona è in coma etilico. Il coma etilico dà questo possibile problema, che la sedazione può arrivare fino a inibire la respirazione. In questo senso, dico a tutti che è molto importante, se una persona è molto intossicata da alcol, di stare sempre attenti appunto alle normali regole per mantenere viva una persona, cioè vedere che respiri, vedere che il cuore batta e così via. E questo, mi scusi dottoressa Zavan, può succedere ai ragazzini che si ubriacano per la prima volta? Ecco, stanno scorrendo delle immagini che sono assolutamente, diciamo così, piacevoli, gradevoli. Questi drink sembrano molto innocenti perché hanno la ciliegina, hanno la fettina di ananas, sono anche proprio belli da vedersi, sembrano solo a base di frutta, ma in realtà contengono... Super alcolici. Eh sì, senz'altro, perché purtroppo sono cosiddetti soft drink questi, ma comunque contengono alcol. A volte non tanto soft. Diciamo a mettersi dentro un bicchierino così di super alcolico, ti saluto, che soft. Ecco, ma voglio dire, il coma etilico si manifesta per una violenta sbronza o per un accumulo di serate, ad esempio, alcoliche? No, l'intossicazione acuta da alcol avviene in genere in un'unica occasione. È un episodio, un episodio drammatico. Sì, sì, sì. Assume molte unità contemporanee e queste vanno ad accumulo, ovviamente nel sangue, influiscono sul sistema nervoso centrale e devono progressivamente essere smaltite. Perciò l'assunzione di grosse quantità in un breve periodo di tempo... Ecco, quello è pericolosissimo. Pericolosissimo. Del resto mi pare che proprio recentemente alcuni studiosi abbiano dimostrato che fino a 20-21 anni circa non abbiamo proprio la capacità, la maturazione completa del nostro autocontrollo. Quindi i saggi, gli antichi una volta avevano ragione quando mettevano la maggiore età a 21 anni, perché a 18 non sei ancora proprio del tutto maturo, non ti sai fermare in tempo. Concorda con noi? Eh sì, è decisamente così. Allora riprendo il discorso, l'abitudine, non sono questi signori ovviamente, però in discoteca c'è l'insana abitudine anche di accompagnare al consumo di alcol anche il consumo di pilloline e altro, le droghe leggere o le anfetamine o non troppo leggere, insomma. Infatti nelle fasi giornali... Ricordiamo che sono sostanze proibite, eh? Stiamo sempre parlando di... perché addirittura servire alcolici a un minorenne è veramente contro la legge. Certo. Tuttavia sappiamo di 16 anni, 15 anni che ne bevono in quantità industriale. Certo. C'è il divieto di vendita e di mescita a fine 16 anni, eh? E questo è una questione... A 16 anni, eh? Sì, 16 anni. Senta, dottoressa, ma il mettere insieme come fanno spesso? La pillolina... Massa, è una questione... Ma è sinergico poi? Cioè aumenta il rischio? È una questione molto complicata, dipende con quali sostanze. In genere c'è la tendenza ad assumere più sostanze. Questi tipi di sostanze tante volte si sa che cosa sono e tante volte no. Perché in effetti le cosiddette, quelle che lei chiama... Di sintesi, insomma. Di sintesi, a parte le più conosciute, tipo l'estasi o altre metanfetamine, spesso sono delle sostanze che viaggiano nel mercato illegale in cui si sa relativamente quello che c'è dentro. Perciò in questo senso... Si diceva che alcuni ragazzini usassero anche 4 o 5 pastiglie di Viagra addirittura. Certo, certo. Ed è chiaro che il risultato finale sul singolo individuo può essere molteplice. Vediamo, le combinazioni possono essere veramente molte e sono estremamente pericolose perché si possono potenziare tra di loro oppure in alternativa non depotenziare. Ci sono dei quadri talmente complessi... Che anche per voi esperti diventa difficile. D'altra parte io ricordo un nostro servizio giornalistico drammatico di un caso avvenuto tra... Non ricordo, sì, nella Bergamasca o nel Bresciano di un gruppo di ragazzini che finirono tutti gravemente intossicati dopo una serata in discoteca. E le forze dell'ordine all'inizio, ma gli stessi medici durante il soccorso, si trovarono in difficoltà perché erano alle prese con una sostanza nuova ancora non ben conosciuta, insomma. I cui effetti però erano sfuggiti al controllo non solo dei ragazzini ma degli stessi medici. Certo, tante volte è proprio difficile riuscire a capire che cosa è stato assunto e quindi è anche difficile gestire le situazioni quando arrivano a livello ospedaliero o di pronto soccorso. Si ricchiano dei veri e propri avvelenamenti. Sì, sì, sì. Sono di fatto dei veri avvelenamenti. Sono avvelenamenti questi, non sono... Una di queste ragazze è finita con il trappianto di fegato, per dirla in maniera brutale. Sì, sì. Che non è sicuramente una bella ipotesi di vita. Considerate anche altre cose che vengono valutate meno, come per esempio il fatto che l'eccessiva sedazione possa far sì che i ragazzi possano addormentarsi in luoghi poco consoni e quindi passare, per esempio, ricordo un caso di un ragazzino che si è poi addormentato in un campo e di fatto è morto assiderato. Quindi esistono delle situazioni anche complesse rispetto agli esiti spesso imprevedibili. Poveri genitori però, è cosa devono oggi sopportare. Abbiamo visto, si socializza, si balla in discoteca e ci vuole per forza il bicchiere in mano? Dottoressa, perché ci siamo ridotti così? Ma io mi ricordo che ero una ragazzina, c'era la mania già di bere, soprattutto nei ragazzi, di dare, di far vedere che chi beveva di più era il più maccio, no? In genere. Chi teneva meglio l'alcol. Quindi inevitabilmente poi dopo si va incontro a queste cose qua. Vorrei anche spezzare una lancia però rispetto al fatto che oltre a esserci molti ragazzi che esagerano, fanno pasticce eccetera, ce ne sono altrettanti che in realtà sono assolutamente dei ragazzi. Ma guardate, sempre perché ho perso quelle mie statistiche, però erano interessanti perché leggevano bene, si poteva leggere bene i dati, perché i ragazzi impegnati nello sport o i ragazzi che fanno qualche cosa nella loro vita, che hanno degli hobby, degli interessi, che sono impegnati in qualcosa, generalmente sono ragazzi che non cadono in questi tranelli dello sballo facile e quindi dell'alcol o del consumo anche di sostanze. Vale la pena sottolinearlo questo perché indubbiamente è un fenomeno che è importante, che va valutato nella sua gravità, dall'altra parte non esiste solo quello. Ed è importante dirlo perché, perché poi ricordiamoci sempre che i problemi di alcol, quelli veri e quelli seri, sono appannaggio dell'età adulte. Degli ultra 65 anni. Anche, certo. Più degli uomini che delle donne, però nelle donne l'alcolismo ha degli effetti veramente devastanti, che poi dopo la pubblicità vedremo insieme. Volevo ricordarvi una cosa, noi siamo in diretta, gradiamo davvero essere contattati per telefono, vedete che abbiamo già messo il numero in sovraimpressione, però ovviamente, cioè più anonimo di così, potete anche dare un nome di fantasia e raccontarci se avete problemi, le vostre storie o se avete curiosità, gradiremmo nell'ultima parte della trasmissione avere un contatto con il pubblico. E intanto vi annuncio che alla ripresa noi vedremo la prima delle nostre quattro interviste. Sempre, quando c'è un problema serio di alcolismo, ci sono problemi seri di relazione, ci sono problemi familiari, ci sono famiglie che si disgregano, ci sono figli che soffrono, una situazione lavorativa che è sempre borderline. E quindi riflettete bene insieme perché è facile passare in questo problema. Io mi ricordo che quando ero un giovane medico ho visto un sacco di alcolizzati, anche perché qui a Cremona c'è proprio la tradizione del bere, più bere vino, però i nostri vecchi, i nostri anziani, bevevano già il cognacchino al mattino, la grappa nel caffè. Non scatalizzi la dottoressa che te l'ho detto, viene da una terra dove proprio... Beh, Cremona è la città dei vinai, è Cremona, erano commercianti di vino i cremonesi. Sì, ho capito. Perché c'è il mito del Veneto, ma io lavoro in Piemonte, non è che ne vedo di me. Ah no, quindi il mito è stato esportato, ma hai ragione, il problema della globalizzazione è un problema reale. Cioè ormai i modelli di una parte sono modelli dell'anno. Le regioni del nord, periodicamente tra Veneto, Valle d'Aosta, Trentino, Piemonte, si contendono nei primi posti dei consumi italiani. Quindi diciamo che anche lì non è per essere indulgenti, però il freddo, le montagne, insomma a volte è corroborante un pochino bere qualcosa. Il classico punch che ti consiglia. Però bere alcol è contrario, quando fa freddo non bisogna bere alcol, perché l'alcol è un vaso dilattatore. I medici ci spiegano anche che facciamo delle sciocchezze. Ti aspetto tra qualche minuto, pochi eh. Grazie. 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 Grazie.